E nonostante le incertezze legate alla pandemia, la stagione sciistica sembra essere partita nel migliore dei modi. I numeri infatti sono di poco inferiori a quelli del 2019, ma dalle piste da sci di Oberhagen ci aggiorna Valentina Leone. Buon pomeriggio, ci troviamo sulle piste di Oberhagen. Prima domenica natalizia ci sono davvero tantissime persone che hanno deciso di trascorrere la giornata sugli sci. Le presenze, lo sentirete tra poco, sono davvero soddisfacenti per il momento nonostante le incertezze legate alla pandemia. Ma adesso vi facciamo ascoltare la voce di Thomas Ondertoller, direttore marketing del comprensorio, poi la voce di alcuni sciatori e poi la linea può tornare allo studio. Naturalmente siamo preoccupati perché la pandemia è ancora in corso, ma siamo anche molto soddisfatti sull'inizio di stagione, che è molto buono, il numero dei passaggi sui nostri impianti è poco meno di quello del dicembre 2019. Veniamo da Villa Franca di Verona, veniamo qua tutti gli anni, di solito facciamo 5-6 pullman, quest'anno vediamo come andrà perché con il Covid non si sa... La preoccupazione c'è però, il fatto di poter sciare e poter essere accolti in un'altra regione ci mette di buon umore.